Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti naturalmente a Start, Start di lunedì invece che di martedì. Un anticipo che in qualche modo è legato al tema di questa serata che è Dulce Francia, per chi non sapesse il francese e quelli due che mi stanno ad ascoltare sono sicuro che sanno benissimo a chi mi riferisco. Dulce Francia perché in realtà noi abbiamo spostato dal martedì al lunedì perché due figuri che si chiamano Alberto Sayu e Salvo Sardina hanno bisogno di tempo per andare a raggiungere il Castelè che è la loro vera Dulce Francia. Quindi siccome noi vogliamo conservargli il tasso zuccherino di questa interessante nazione ci siamo decisi a farla di lunedì. E allora io saluto voi ma saluto soprattutto i nostri zuccherosi Salvo Sardina. Ciao Salvo. Ciao Mauro, buonasera. E naturalmente il caramelloso Alberto Sayu. Ciao Alberto. Ciao direttore, buonasera. Io capisco che andando in Francia dovete conservare poi praticamente ai limiti della costa azzurra o quasi voglio dire dovete conservare tutte le vostre energie e quindi dovete riposare per poi poter affrontare la dura Formula 1. E quando dico dura è molto dura la Formula 1 in determinate condizioni. Va bene, siete allora pronti per le Castelè? Prego Salvo. Ma sì, ma non siete pronti, non siete pronti, evidente. No, siamo andati pronti Mauro. Ma va bene, va bene. No, a parte gli scherzi andiamo belli carichi sperando quantomeno, Mauro, quello sì, di vedere un Gran Premio divertente o un qualche sorpasso in più perché gli ultimi due sono stati un po'... Castelè vi dice qualcosa a voi giovane generazioni o è un circuito ai bassa voglio dire? No, a me sì, no scusa Salvo. Vai vai vai. A me ricordo più che altro i test delle gomme ecco non ho memoria che vada più in là perché per noi comunque il Gran Premio di Francia è sempre stato Magnycourt. Le Castelè sì, magari si trova qualcosa sui libri di storia ma non ha mai rappresentato nulla di particolare o quantomeno non rappresenta non rientra tra quelle esperienze dirette vissute che che ci portiamo dietro quindi no. Dirette no però non avendo voi sette anni voglio dire c'è c'è qualche elemento che voi vi ricordate di questo circuito o no? Non ha inciso nella vostra memoria no? No nella mia memoria no ecco ma incurvo molto di più. Io sì io sono preparato non sono preparato in francese. No non dovete essere preparati io che ho chiesto solo se se emotivamente vi ricordava qualcosa ecco perché anche molti nostri lettori saranno giovani o forse addirittura più giovani di voi quindi è giusto cominciare da qua ecco. Salvo. Il famosissimo rettilineo del Mistral o Mistral visto che non sono bravo in francese. Mistral, Mistral. E con la successiva. Il Mistral fondamentalmente è il nostro scirocco. Ok. Vento caldo umido. Esatto. Questo non lo sapevo e ammetto che questo non lo sapevo e con la successiva curva di signe che all'epoca ricordo magari qualche intervista dei vari Senna, Prost insomma era una vera e propria sfida perché a quanto pare i piloti si sfidavano a pensate che si arrivava a questa curva dopo 1800 metri di rettilineo e questa curva per quanto larga dal punto di vista sedia statale era una curva a 90 gradi e allora io ricordo che i giornalisti andavano tutti ad appossarsi in questa curva per sentire chi cavava l'acceleratore in entrata. L'unico che non lo faceva era Senna però poi si è scoperto che anche altri riuscivano a farla in pieno ma tenendo giù l'acceleratore ma anche pizzicando il pedale del freno e questo succedeva anche a Spa per una volta. Per cui alla fine poi Senna è stato privato di questo primato perché la facevano tutti in pieno ma con un piede sull'acceleratore e uno sul freno e quindi fregavano tutti i giornalisti appollaiati alla curva di signe. Adesso il rettilineo è più corto perché è interrotto da una chicane però le macchine arriveranno date le prestazioni di oggi come peraltro aveva detto giustamente l'altra volta Sayu, quella chicane è praticamente ininfluente rispetto alla velocità di arrivo a signe. Quindi lì dovremmo vedere qualche cosa di molto interessante. Tra l'altro questo è un circuito che è stato acquistato da Bernie Eccleston che ne ha fatto un po' il suo circuito modello. Quindi insomma gli elementi di interesse ci sono, sono, sono molti. Ma io volevo anche chiedervi, poi poi andiamo a parlare anche magari di Le Manga, andiamo a parlare di tutto quello che vogliamo, della Ducati. Ma voi ecco, com'è la vostra trasferta in un circuito, come avviene? Perché voi avete inventato una cosa secondo me geniale che è quella della foto intervista. Perché la foto intervista, per banale che possa sembrare, ha riportato umanità nel concetto di pilota. A chi è venuta in mente la foto intervista? Diciamo che ci siamo confrontati, cercavamo effettivamente un sistema un pochino diverso per confrontarci con i protagonisti della Formula 1 e la foto intervista è sembrata una bella idea. La prima l'avevamo fatta a Monza l'anno scorso, io e Simone Valtieri. E poi però per quanto possa sembrare sempre la stessa, in realtà anche questo è un prodotto in continua un'evoluzione. No, non è la stessa, certo. La cosa interessante, quello che cerchiamo di fare è sempre quello di portare l'intervistato un po' su delle montagne russe a livello psicologico. Quindi alternare momenti che in qualche modo lo addolciscono e lo aiutano ad aprirsi con noi a momenti effettivamente brutti ricordi. Magari mettiamo la prima vittoria e poi un incidente che può essere costato una gara. Quindi in questo flusso riusciamo secondo me anche a rendere questi personaggi... No, io trovo tutto molto intimo, diciamo così, non costruito per la verità. A proposito di costruire, come si fa a intervistare questi personaggi? Qual è la procedura? Ma in realtà la procedura di per sé è abbastanza semplice perché... No, perché si parla di questi personaggi e sembra come assolutamente inarrivabili, voglio dire, no? Allora, c'è da dire che sicuramente nel momento in cui si entra nel paddock con un pass stampa quello che normalmente è un personaggio inarrivabile diventa sicuramente più accessibile perché chiaramente noi andiamo lì con pass stampa, accreditati Formula Passion, eccetera, eccetera quindi comunque il nostro ruolo viene riconosciuto come dei personaggi che sono in circuito... Però Alberto, qualcuno mi dice che per avere alcune interviste magari di personaggi davvero di primo piano ci sono liste d'attesa di mesi addirittura... No, 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 dico, la procedura di per sé è semplice perché si fa richiesta agli addetti stampa delle varie scuderie, quindi nel momento in cui si decide di andare a vedere un Gran Premio quando decidiamo chi di noi va a vedere il Gran Premio si iniziano a prendere i contatti con i vari uffici stampa delle scuderie e si chiede la disponibilità di intervistare questo o quel pilota o magari anche andando in circuito due o tre volte durante il corso dell'anno si inizia a discutere con gli addetti stampa cercando di capire se e quando si potrebbero intervistare i piloti o i team principali. È evidente che, e questo è un altro tema, ferma restando che questa è la procedura base, poi ci sono dei team che per il loro blasone, per la loro importanza, per l'interesse che suscitano, creano comunque una difficoltà oggettiva perché non per male ma Ferrari e Mercedes magari hanno tutta una serie di incombenze, di appuntamenti, di testate giornalistiche che hanno interesse a intervistare i membri del team e quindi risulta abbastanza complesso trovare lo spiraio, trovare quei dieci minuti per fare un'intervista one to one. È chiaro che comunque anche questi team... Avete in mente qualcosa per le Castellè? Per le Castellè avete in mente qualcosa? Abbiamo in mente qualcosa... Ma non svegliamo. Non lo svegliamo. Non lo svegliamo. Benissimo, benissimo. Possiamo dire una cosa, intervisteremo un team principal, campione del mondo. Bene. Beh, vediamo se i nostri ascoltatori magari lo individuano. Sono sempre molto bravi. Vediamo, vediamo. Va bene. Allora vogliamo tornare... Allora abbiamo capito perché siamo passati a lunedì, perché martedì mattina i due qua si alzano presto e quindi devono giustamente riposare. No, ma come dicevi giustamente... Ma certo, 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 da certo. Avete ben altro per la testa voi, è chiaro. C'è Salvo che vive ai margini dell'impero, come giustamente hai detto, e conseguentemente il mercoledì mattina parte molto presto. Eh, lo so, d'altra parte, voglio dire, è stretta e lunga, è pazienza. Cosa volete fare? C'ha andato questa nazione qua, ce la teniamo. Adesso la stiamo accorciando un po' forse. Ma comunque, va bene. Detto tutto, vogliamo... Una grossa disquisizione, ma entriamo un po' in argomento. Abbiamo detto Francia, dolce Francia, perché al di là delle dolci trasferte c'è però il fatto che combinazione a una settimana di distanza, in pratica, si passa da una classica come la 24 ore di Le Mans, una classica francese, a un'altra ex classica che è le Cassele, cioè la Francia in fondo è stata insieme all'Italia, ma prima ancora dell'Italia, la culla del motorismo, del motosport mondiale. Anzi, la prima gara di automobilistica è stata proprio in Francia, quindi è un qualcosa, in qualche modo è un pochino un evento, ecco, da un lato la 24 ore di Le Mans, dall'altro il Cassele che ritorna nel novero delle gare mondiali. Va bene, Le Mans vi è piaciuta? Abbiamo ben fatto una diretta, Salvo ha partecipato, devo dire, a una diretta eccezionale della 24 ore di Le Mans. Cosa ne dite? Vado io, Alberto. Vai, vai, Salvo, per forza. Abbiamo delle opinioni molto, molto discordanti. Bene, bene, benissimo. Vinceremo malamente, sperando di poter ricomporre poi questo litigio prima della partenza per la Francia. Esatto. Allora, sicuramente, Mauro, il risultato finale lo conosciamo tutti, anche chi ha seguito, insomma, ha vinto Alonso con la Toyota. Siamo già stati ampiamente criticati per aver parlato di Alonso e non dei suoi compagni. Va bene, d'accordo, hanno forse ragione, però è anche vero che una 24 ore di Le Mans, il cui spessore si era un po' assottigliato nel tempo, beh, la vittoria di Alonso, una mano, gliela dà, gliela dà anche a quelli che non hanno vinto da un certo punto di vista. Gliela dà a quelli che non hanno vinto, gliela dà anche al team che ha vinto, lo dà agli spettatori, perché è in dubbio, Mauro, lo dicevamo anche nelle puntate scorse per quanto riguarda sia la Le Mans di quest'anno, ma anche la Indy 500 dell'anno scorso. Certo. di gran lunga maggiore rispetto a quella solita. Anche perché voglio dire, c'è uno spettatore, un ascoltatore che ha una critica, anche legittima, perché io ho parlato solo di Alonso, risponde però, vabbè, però ci vogliamo mettere l'entusiasmo di uno che a quell'età, con il palmares che ha alle spalle, con la situazione economica che ha, si mette a fare otto ore e mezzo abbondanti di gara, in notturna, all'alba col sole degli occhi, con le macchine più lente di 150 chilometri all'ora e rischiando quello che rischia, beh, insomma, è uno che si mette in gioco in ogni caso, no? È uno che si mette in gioco, io sono d'accordo con, credo che ti riferissi al commento di Matteo 79, io sono assolutamente d'accordo con Matteo. Per me, comunque, Alonso, al di là di tutto, ha fatto una gara meravigliosa, anche da un punto di vista sportivo, perché, per chi non l'avesse vista, loro, l'equipaggio della Toyota numero 8, che poi ha vinto, si è ritrovato con due minuti e oltre di svantaggio nel corso della notte, e Alonso ne ha recuperati, ha recuperato 80-90 secondi. Ora, è chiaro che dall'altro lato magari c'era José Maria Lopez, che probabilmente è il Toyota più debole tra quelli del sestetto Toyota. Qualcuno dice che comunque sarebbe convenuto alla Toyota comunque di vincere con Alonso, però questo noi non lo sappiamo e non lo possiamo dire. Questo non lo sappiamo, non lo possiamo dire, probabilmente è assenero. Lo possiamo pensare. Lo possiamo pensare. Lo possiamo pensare, d'accordo, ma è anche legittimo ad un certo punto di vista. Al di là di tutto, insomma, resta il fatto che da un punto di vista sportivo ha fatto una prestazione importante, è anche chiaro, e mi rendo conto quella che è la posizione dei detrattori di Alonso, o chi, come Alberto, non è detrattore di Alonso, ma ha visto una gara in cui di fatto a giocarsi la vittoria c'è soltanto due macchine. Però non possiamo assolutamente dimenticarci che non si trattava di una gara di un'ora e un quarto, un'ora e mezza, meno di due ore, come capita nei campioni di Formula Uno, ma si trattava di una gara di 24 ore che è ricchissima di insidie e per capirlo basta vedere l'edizione dell'anno scorso che per poco non veniva vinta da una LMP2 perché tutte le altre LMP1 si erano rotte. E quella è stata purtroppo la botta finale alla WEC che è in generale. Mauro, quella di due anni fa quando la Toyota aveva stradominato la gara, avrebbe strameditato di vincere ed è rimasta ferma e piantata sul rettilineo a un giro e mezzo alla fine. Quindi parliamo comunque di una gara che è... È una gara evento, è una gara evento e come tale si legittima. Però sono anche d'accordo con Alberto che questa è un po' una categoria che è un po' in un momento di ripartenza perché è chiaro che i prototipi Toyota sono gli ultimi due ormai impegnati in questa gara, tutto il resto è cambiato Alberto. Ma io difatti ecco voglio chiarire, non sono dei trattori di Alonso, non sono dei trattori della Toyota, per carità. Ma ci mancherebbe altro. Ha vinto, bravi loro. In extremis fra l'altro devo dire perché Toyota ha una storia piuttosto sfortunata, un po' come la Honda da un certo punto di vista in Formula 1 nei prototipi. Sì, beh anche in Formula 1 hanno avuto una storia abbastanza travagliata, venivano il bacio del doppio degli altri, hanno fatto un po' di malcontati, ecco. Onestamente dal punto di vista sportivo io non avrei speso fiumi di inchioso nel celebrare la vittoria di Toyota, la vittoria di Alonso. Questa qui fondamentalmente è una vittoria frutto di una decisione presa a tavolini, immagino anche dagli organizzatori che per non perdere Toyota hanno fatto anche questo balance of performance, poi sono tornati indietro, hanno aggiustato le cose per dare un vantaggio chiaro a Toyota. No, no, ma è certamente una socialità in crisi, su quello non c'è dubbio. Onestamente, quello che ho visto io è stata una gara in cui c'era un'unica squadra. Però Alberto, scusami, è in crisi il campionato, però l'evento non credo che sia in crisi. No, l'evento non è in crisi perché è un evento che, come può essere il Super Bowl, come può essere la 500 mila di Indianapolis, come può essere la finale di Champions League, la finale dei mondiali, che a proposito di finali mondiali deve aver segnato l'Inghilterra, è un evento più importante dei protagonisti che vi partecipano. Quindi la 24 ore di Le Mans è la 24 ore di Le Mans, a prescindere da chi corre, a prescindere da chi vinca. Però è evidente che, secondo me, da un punto di vista sportivo, abbiamo visto una gara che ha significato zero. Cioè, solo Toyota poteva perderlo. Il dubbio non era se Toyota vincesse. Non c'è dubbio. Il dubbio era se Toyota, in caso, perdesse è come. Cioè, ma era talmente ampio il vantaggio, e qua, salvo sicuramente te, puoi essere più preciso di me, che anche Toyota, è evidente che non avrà frustato la macchina in maniera esasperata. Sì, puoi sempre andare a sbattere, puoi mettere due ruote sull'erba, ci può essere un problema. Ma sicuramente queste macchine qua saranno... Beh, su 24 ore, su 24 ore, onestamente, è chiaro che un problema può essersi. Sì, quello è evidente. Perché, vedi, un nostro ascoltatore ha fatto un rilievo che è interessante. Dice, beh, ma stiamo guardando un campionato dove quelli che vincono hanno dei motori che fanno, alla fine, qualche chilometro in meno dei motori di Formula 1. Cioè, c'è una sovrapposizione tra le due formule da un certo punto di vista, no? Lui dice, il motore Mercedes di Bottas ha fatto più chilometri che non quelli che hanno vinto della Toyota, che hanno vinto la 24 ore di Le Mans. Jean-Todd, proprio seguendo questo tipo di ragionamento, aveva proposto di fare un regolamento di motore unico, in modo tale che i motoristi dell'UEC potessero pensare anche di motorizzare la Formula 1 e viceversa determinati protagonisti della Formula 1 avrebbero potuto pensare di partecipare. Ma l'altro, io vorrei ricordare che negli anni Sessanta, fino agli anni Settanta, in realtà questo avveniva già, perché i prototipi Ferrari avevano comunque dei 12 cilindri che con poche modifiche andavano sulla Formula 1 e viceversa. E il motore Cosworth di Formula 1 era anche il motore Cosworth di gran parte delle vetture che partecipavano alla 24 ore di Le Mans. Per la verità, è una cosa che ha scandalizzato molto i nostri lettori, però per la verità, storicamente, questo è sempre stato. Ma a me non è sembrata nemmeno un'idea assurda. Cioè, è chiaro, avere una base comune e poi su questa base di performance altissime e massima tecnologia si possono creare delle differenziazioni, chiaramente di carburazione, di piccole modifiche, che rendano compatibili i motori sulle due categorie. Ecco, io non sarei a prioristicamente contro questo tipo di soluzione, anzi, però, vabbè, vedremo, sembra tramontata comunque la cosa. No, bisogna vedere se davvero, io non ci credo, ma l'esempio di Alonso possa essere recepito anche da altri piloti in normali attività in Formula 1. Credo che questo non sia più possibile. Ma Alonso ha potuto farlo perché c'è stata una congiunzione astrale. La sua fortissima personalità, la sua voglia di vincere, il suo carisma, la sua popolarità e una McLaren talmente in balia degli eventi che ha dovuto, per tenerselo, concedere i qualsiasi tipo di cosa. Gli avessero detto, non lo so, voglio la casa di… L'avrebbero fatto, certo, l'avrebbero fatto, non c'è dubbio. Ecco, mi chiedo, ma questo lo volevo chiedere a Salvo, cambiando discorso, ma in realtà con una certa coerenza di fondo. È una Formula 1 che sta perdendo, almeno dal punto di vista competitivo, la Williams, che sta perdendo la McLaren, che sta perdendo le fondamenta della sua storia, Salvo. Secondo te è un qualcosa con cui dovremmo fare i conti o no? Ma guarda, Mauro, per quanto riguarda la Williams hai perfettamente ragione. Peraltro mi sa tanto che, insomma, i regolamenti che sono stati fatti portano inevitabilmente in quella direzione, cioè la direzione per cui i team privati, che siano la Williams, ma che sia anche la Forza India, possano avere delle difficoltà grosse, chiaramente. Tra l'altro la Williams l'anno prossimo non avrà più la Martini, ad esempio. Ecco, non so se ne troverà un altro, ecco. E quindi la soluzione di fatto poi non può che essere quella della Sauber o dell'Aas, che hanno evidentemente stretto delle sinergie molto importanti. E quella che ai miei tempi era la macchina clienti, voglio dire. Quindi di fatto dipinta in un altro modo. Per quanto riguarda invece la McLaren, in realtà secondo me è una situazione un po' diversa rispetto a quella della Williams, perché loro non è che abbiano tutti questi problemi di carattere economico. È chiaro che non hanno il budget della Red Bull, della Ferrari, della Mercedes, però, insomma, quattro soldini ce li hanno pure spesi in questo progetto. Ah, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Si trovano in una situazione di crisi tecnica che ormai va avanti, direi, da tantissimi anni. Loro hanno provato e per un certo periodo ci sono anche riusciti a dare tutte le colpe a Honda, però quest'anno mi pare abbastanza evidente che, visto le differenze di questo progetto, non c'è possibilità di sbagliarsi in questo. La McLaren ha fatto delle macchine che oggettivamente non funzionano, che oggettivamente sono delle macchine poco prestazionali. Purtroppo ne ha fatto le spese a Lonzo, però dall'altro lato questo è stato un po' il lascia passare per la sua esperienza alle mani. Però mi viene... Se fosse stato in lotta per il campionato... Non ci sarebbe certamente andato. Ma mi avrebbe in mente una domanda. Ma c'è ancora spazio per un motorista puro in Formula 1? Cioè, semplicemente uno che progetta e produce dei motori senza avere una squadra propria? Allora, con questi... Beh, Honda. C'è Honda, però Honda... Ecco, ma c'è spazio, ho visto i risultati. È possibile essere competitivi facendo solo un motore? Sì. Secondo me sì. Secondo me sì e lo vedremo l'anno prossimo. Secondo me Honda con Red Bull potrà formare un bel connubio e sono sicuro che entreranno anche... Ecco, ma è quello che io volevo dire. Noi abbiamo vissuto un tempo, non voi, ma io sì, dove la componente motore veniva prodotta e poi veniva venduta e l'assemblatore la metteva insieme. Oggi il sistema è talmente integrato che, come dici te, c'è il discorso del connubio, cioè ci vuole un rapporto di un certo tipo tra produttore e motore e produttore del telaio. Voglio dire, non è più il Cosworth che era praticamente un motore di serie e poi ognuno se lo montava come voleva a casa sua. Ecco, intendo questo. Ci vuole un legame molto, molto stretto col costruttore. Questo vuol dire anche un legame di fiducia, quello che probabilmente è mancato tra Honda e McLaren, ad esempio, e forse addirittura tra McLaren e Renault, perché il problema è che il motorista deve rinunciare a qualcosa e lo stesso il telaista. Cioè, bisogna trovare un equilibrio che non è facile in un mondo di prime donne come quello della Formula 1. Sì, Mauro, questo è vero, però ecco, per esempio, è notizia recente, ma comunque se ne parla da tanto tempo e a quanto pare prima o poi succederà, che Porsche, quindi il gruppo Volkswagen... Sempre che non li arrestino tutti. Sempre che ne rimanga ancora qualcuno libero, ma comunque, vabbè. Ecco, comunque di coloro vorrebbero entrare, quindi effettivamente, secondo me, sì, come ha detto anche Alberto, c'è la possibilità che un motorista puro entri, però è anche vero, Alberto, qua penso che possiamo essere d'accordo, che una volta che un motorista entra senza squadra, tra virgolette, quindi senza il telaio, poi inevitabilmente si vengono a creare dei rapporti molto forti... No, perché ci sono dei compromessi, è inevitabile, il motorista ragiona in un modo, il telarista ragiona in un altro, bisogna trovare un compromesso, non è facile. Ma basta ragionare, Mauro, su quello che è successo in questi anni con McLaren, dove poi effettivamente, cioè, in casa McLaren c'erano tantissimi tecnici giapponesi che provavano, insomma, a fare in modo che i due sistemi telaio... Cioè il motore, il motore non è più uno scatolotto, è invasivo rispetto al telaio, voglio dire, insomma che lo permia completamente... Esattamente, quindi devono lavorare insieme e devono essere disposti a trovare un punto di incontro, di equilibrio tra istanze diverse, voglio dire, no? Quindi, insomma, lo vedo difficilina la vita, la vita di un produttore di semplici motori. Guardiata anche Renault, da un certo punto di vista, le sue difficoltà, nonostante che adesso abbia comunque una squadra, e tant'è che si è convinto a farla, però, voglio dire... Ecco, il discorso del motore Renault sulla Lotus, ad esempio, secondo me è difficilmente recuperabile. Comunque, vediamo anche, fra l'altro oggi, ho visto anche un po' dei malumori all'interno delle squadre, perché questo regolamento 2021 non viene ancora fuori. E il 2021 è dietro l'angolo, per vetture di questa complessità. Mauro, lì il problema è che, chiaramente, bisogna mettere d'accordo tante teste, si parla però di mettere d'accordo tante teste su dei punti che sono molto delicati, con degli interessi estremamente conflugenti, da un lato quelli delle grandi squadre, dei grandi costruttori, dall'altro quello di Liberty Media e della FIA, e dall'altro ancora i piccoli team. Però vedi che anche quell'intesa Mercedes-Ferrari, che sembrava abbastanza consolidata, adesso comincia a scricchiolare un po', c'è il problema della doppia batteria, cioè si è creata una Formula 1 talmente complessa che tornare indietro adesso è veramente molto, molto difficile, perché è chiaro che gli investimenti sono enormi, gli interessi sono enormi, quindi le posizioni di vantaggio sono consolidate da un certo punto di vista, quindi non so come Liberty Media riuscirà a cavarsela, anche la modifica di passaggio, quella dell'anno prossimo, è un po' un qualcosa di raffazzonato, lo abbiamo detto tante volte, nei sistemi complessi non si può lavorare sulle componenti, bisogna lavorare sul sistema, perché sennò si fanno dei grandi pasticci, vedete che anche perché c'è un clima di incertezza, i cerchi da 13 o i cerchi da 18, le ali piccole o le ali grandi, la doppia batteria o non la doppia batteria, cioè l'olio nella benzina o che so io, cioè è tutto, dovendo sintetizzare, è tutto un grande casino da un certo punto di vista. Sì, sì, questo assolutamente. Mauro, io ti volevo, però visto che stiamo sempre sul tema, stiamo sullo sfondo del tema della 24 ore di Le Mans, leggere anche un po' una domanda che ci è stata fatta nella giornata di oggi, io però in questo momento non la trovo più, però me la ricordo perfettamente, adesso poi troverò anche la domanda in modo tale da poter citare, chi la fa? Ah, ecco, Davide. È quella del BOP? Esatto, cioè, si parla tanto, si è parla tanto di BOP, l'altro, chi lo subisce? Il mitico balance of performance. Esatto, nella mente in maniera esagerata. Dice, secondo te come mai, tra le varie... Pronto? Pronto? L'abbiamo perso. Abbiamo perso salvo, sul BOP, sul BOP, sul BOP. Esatto. Comunque possiamo anche andare avanti, perché l'avevo letta anch'io questa, ma... Ehi, c'è? No, non c'è. Eh no, abbiamo perso, cioè non abbiamo... Abbiamo perso il BOP. Ah, ok. Scusate, sono andato via un attimino la connessione. No, dicevo... Sì, 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 ho capito. Certo, il BOP. Ma sai, il balance of performance è la contraddizione in termini della competizione, voglio dire. Cioè, se io faccio una macchina veloce, vengo punito rispetto a uno che ne ha fatta una meno veloce. Quindi, io mi ricordo, il BOP è nato con la Maserati MC12. La Maserati MC12 è entrata in un settore dove la gente aveva delle vetture lontanissime dal concetto di sport della MC12. Era una macchina di un'altra categoria, praticamente, e quindi lì è nata l'esigenza. Però, io non so, nella massima formula del motorsport, punire chi ha la macchina più competitiva, mi sembra difficile che possa essere governato. Allora, che senso ha per un costruttore investire 4-500 milioni di euro, di dollari, di quello che sono, sapendo che poi tutta la sua ricerca lo porta a un livello di competizione che nel caso sia elevato verrà poi in qualche modo penalizzato. Tutto bello, magari dal punto di vista dello spettacolo, lo posso accettare nel turismo, voglio dire, ma non nella formula 1, perché l'innovazione è chiaro che porta a delle diversità, e quelle diversità devono accentuarsi, non essere addirittura penalizzate, io credo. No, no, d'accordissimo, direttore. Un conto è creare un regolamento che in qualche maniera possa condurre… Che li guidi, che li guidi verso una semplificazione a limite, quello che vuoi, ma non a posteriori, capisci? Cioè, io ho fatto la soluzione vincente e allora io te la penalizzo e questo non è accettabile in formula 1. No, 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 o come in formula 1 quando determinate soluzioni che vengono tollerate, concesse o comunque ritenute regolari fino a un certo punto, poi di punto in bianco vengono considerate irregolari. Ma Alberto, questo però deriva proprio dalla complessità del sistema. Tu te ne accorgi, mentre un sistema semplice lo puoi prevedere, nel sistema complesso spesso te ne accorgi solo a posteriori, andando a verificare differenze prestazionali che possono essere giustificate solo attraverso degli interventi non legali, capisci? Certo, certo. Si inverte il tema, voglio dire, mentre sulla formula 3000 dei miei anni era tutto talmente evidente che bastava togliere un cofano motore e si capiva. Oggi non è così, per cui anche quelli che devono far osservare il regolamento spesso, quasi sempre ormai per la verità, arrivano dopo, non prima. Sì, sì, sicuro. No, 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 siamo d'accordo. Va bene, meno male. Salvo, abbiamo qualche altra domanda. Sì, abbiamo un bel po' di domande questa sera. Allora, leggo. Intanto ne approfittiamo, perché molto spesso non diamo spazio a queste richieste di aneddoti da parte di Ugo Gamba, ma penso che questa sera lo possiamo fare tranquillamente, perché Ugo Gamba, caro direttore, ti chiede... Che caro Ugo Gamba, allora. Sì, ti chiede di ricordare il Gran Premio, lui dice del 92, poi viene corretto a Roby 27, è il 1990, in cui Ivan Capelli praticamente andò a un passo dalla vittoria, era proprio alle Castellè, al circuito del Port Ricciardo. Eh, Ivan Capelli all'epoca era su una Marche, fatta... No, una Leiton House, scusa, ma è la più o meno altra cosa. Una Leiton House fatta da Adrian Newey, è una vettura quasi inguidabile, perché come sempre le creazioni di Adrian Newey era talmente esasperata nelle sue dimensioni, all'epoca i pedali erano tre, quindi evidentemente ci voleva un certo tipo di spazio, e beh, lui praticamente non riusciva assolutamente a collocare i piedi nella posizione giusta, e è andato molto vicino alla vittoria, quindi poi, e poi le cose sono andate bene, perché poi c'è stato il passaggio alla Ferrari, male, perché poi le cose non sono andate bene, per tanti motivi che probabilmente non è neanche giusto in questo momento ricordare, perché sono troppo complessi. Però, però la qualità, Ivan Capelli ce l'aveva, ce l'aveva e come. direi che il meglio di sé lo ha dato proprio a, proprio sull'Eighton House. La Ferrari che ha avuto tra le mani non era certamente la migliore delle Ferrari, era una Ferrari molto interessante sulla carta, con delle soluzioni tecniche molto particolari, che erano poi soluzioni tecniche sviluppate anche da Claudio Lombardi, ma che però in realtà erano soluzioni che hanno anticipato le Formula 1 attuali, dove il fondo piatto è semplicemente il vassoio su cui si adagia la carrozzeria della vettura, con due funzioni separate tra di loro. Ma all'epoca purtroppo non ha funzionato e Ivan Capelli non ha avuto fortuna in quel campo lì. Ma sicuramente Castellet è stata la grande occasione, purtroppo non portata a fondo, ma la grande occasione di Ivan Capelli. Ok, chiarissimo Mauro. Poi, leggendo i commenti, noto che c'è stato un po' di, come dire, come definirla, baruffa tra Schumi, Roby 27. Sì, l'ho vista, l'ho vista, sempre sul team, ma naturalmente Alonso, eccetera. Alonso, diciamo, lo possiamo anche dire anche guardando un po' i commenti Formula 1 in questi giorni, è stato il tema che ha canalizzato un po' tutta l'attenzione. Alonso sì, Alonso no, l'ha vinta lui, non l'ha vinta lui. No, ma è chiaro che faceva parte di un equipaggio e anche un equipaggio importante, perché con HG, con Ness in Formula 1, quindi, però, però, bisogna riconoscere, a parte che comunque Formula Persson ha parlato di tutti, perché poi qualcuno ha riconosciuto che il suo intervento è stato troppo anticipato rispetto a parlare in realtà, però, detto fatto, che piaccia o non piaccia, se Alonso va la 500 miglia, la 500 miglia diventa quella di Alonso per un europeo, non c'è niente da fare. E tutto sommato, credo che sia la 500 miglia, sia la 24 ore di Lehmann, debbano anche ringraziarlo, perché voglio dire, noi abbiamo pubblicato tutta una serie di estratti di pezzi sui quotidiani sportivi e non italiani, non credo che di solito una 24 ore di Lehmann, che come dice giustamente Alberto, è un po' alla canna del gas dal punto di vista della formula. Ma ecco, solo in P1, perché poi, voglio dire, cioè, tolte le due iota. ma tu sai meglio di me, Alberto, che degli altri sui quotidiani, bravo, bravo. Purtroppo, lo so, hai ragione, ma purtroppo mi tocca dire che non contano assolutamente niente. Questa è la realtà. Sì, beh, noi comunque da sito specializzato mi pare... per riuscire a arrivare su giornali quotidiani, non di settore, ci vuole qualcosa di diverso, non può essere la Porsche, la Porsche Turbo Coupé, capisci? è inevitabile, è triste, è un peccato, perché tutti dovrebbero avere lo spazio, ma non è più il tempo, voglio dire, no? Io ho messo una messa di controllo di Le Mans, dove c'era, da un lato, la Matra, o la Matra, no, la Matra, credo, che comunque passava quasi 400 all'ora, e la Mini Marcos, che faceva fatica ad arrivare a 160, quindi, e all'epoca facevano notizie anche queste cose, oggi, in un mondo che spettacolarizza qualunque cosa, ci vuole semplicemente il top, il massimo, la grande marca, il grande pilota, se no, non vieni fuori, e così, è un peccato, ma questo vale, vale in generale per il motorsport, che ha isolato la Formula 1 là in cima, e tutto il resto vive di luce riflessa. Chiaro, Mauro, leggo la domanda di, del nostro F1 Daniel, che però, qua devo dire, Daniel, sei un po' un birbantello, te l'ho già detto in passato, e lo confermo, perché vorrebbe sapere da te, cosa pensi, Mauro, di un eventuale avvicendamento dal 2020, notizia che anche noi abbiamo dato qualche giorno, di Pirelli con Hankook, che sarebbe un altro fornitore unico di pneumatici che appunto vorrebbe sostituire. Si è coreano, credo, si, ma è due anni che cercano di entrare, non lo so, sicuramente non credo che la Formula 1 voglia rinunciare alla mono fornitura, perché andrebbe contro quel tentativo di semplificazione portato avanti da Liberty Media e credo che sia difficile in questo momento scalzare Pirelli in qualche modo, quindi direi di no. i sudcoreani sono entrati in molte specialità del motorsport, nel turismo, in Formula 1 DTM soprattutto, però vedete anche il DTM tra l'altro a proposito dell'UEC, anche il DTM è agonizzante da un certo punto di vista. no, penso di no, penso che andremo avanti con Pirelli. Lo dico senza nessuna intonazione di ramarico, quindi voglio dire per carità, andremo avanti con la Pirelli. No, ma io penso che il nostro Daniel che ha fatto la domanda sia contentissimo del fatto che andiamo avanti con Pirelli, perché voglio dire Salvo, ma Petro, immagini andare a fare colazione dai coreani quando arriviamo in circuito. È vero, le colazioni della Pirelli sono le più apprezzate da tutti. Ah sì, Ah sì, l'ospitali di Pirelli è il top. Eh beh, ma lo si vede da consenso. Mi sa che dopo le dichiarazioni di Coppini che te faccia alla fine di Jacqueline Neuve non ci fatti entrare nell'ospitali. Ma no, Ma pare che abbiano messo un bollino sul vetro dell'ospitali di Pirelli conforme a te. Con l'ascritta FP sbarrata io non credo dovrebbero essere contenti di avere un contraddittorio, no? Almeno uno voglio dire. Noi infatti in valigia ci portiamo anche una camicetta della Rai, no? Di quelle vecchie anni 80 cercando di andare. Ma davvero ci sono le vendette in Formula 1, sì? No. Nel bando esistono? No. Ma allora dipende, io sono sempre dell'idea che se si va a circostanziare quella che può essere la performance di un soggetto che in tutti i casi fa parte di una manifestazione sportiva di alto livello, si dice qui hanno fatto bene, qui hanno fatto male, più volte abbiamo detto che hanno fatto bene, altre tante volte abbiamo detto che hanno fatto male, però voglio dire fa parte del gioco, no? Il lavoro stesso del giornalista, dell'opinionista è quello poi di andare a fare da un punto di vista proprio etico se uno si espone e poi deve pigliare il buono e il cattivo che ne viene fuori, no? Se no sta a casa sua. Ma certo direttore, poi nella misura in cui il plauso o la critica vengono fatte in maniera del tutto disinteressata soltanto, lì il problema non si può. Sì, di guadagno noi abbiamo guadagnato poco, devo dire, ma pazienza, voglio dire, vabbè. Visto che saremo in Francia proprio io e Alberto, se proprio dagli inviati in Francia dovessero arrivare delle notizie entusiastiche sulla Pirelli, sapete perché? Perché noi in qualche modo dobbiamo andare a mangiare da qualche parte. No, ovviamente. E ma perché vedi si parla tanto di... però sarà interessante, scherzi a parte, sarà interessante vedere cosa succederà perché torna qua sai che cosa c'è sai che cosa c'è Salvo, c'è un fatto fondamentale che dovrete scegliere tra il blistering e il catering e quello è il problema, capisci? Perché sono due che insieme all'undercut sono i due elementi che contraddistinguono la Formula 1 moderna e il catering è fondamentale perché poi il catering va bene sia sulla tavola fredda che sulla tavola calda contrariamente al problema pneumatici, capisci? Quindi, secondo me, voi potreste fare una foto intervista a una Pirelli sul tema del catering. No, perché guardate che il catering è delicatissimo, eh? Il catering ha dei problemi anche di aderenza importanti perché l'essere umano di fronte al catering purtroppo soprattutto quando sono tavole fredde o anche tavole calde ha il problema che l'essere umano è fatto con due mani mentre il catering ne prevede tre perché con due mani e con una devi tenere il piatto e con una tiene il piatto per cui è una cosa contro natura voglio dire, no? Quindi è una cosa sofisticata proprio come il pneumatico, no? Che non sai mai come prenderlo. Quindi, io credo il tema del catering lo credo sia molto molto interessante. Guarda, io tutto mi sarei immaginato quando 105 puntate fa ci siamo imbarcati in questa avventura ma non che tu saresti riuscito a fare un parallelo tra il catering e il blistering però veramente cioè io mi intino va bene è un genio non posso non posso fare guai quando i due si incontrano perché troveresti tutti i ricciolini tra i gamberi con la maionese, eh? Ricciolini di gomma tra i gamberi alla maionese va bene salsa rosa in salsa rosa dai va bene abbiamo scherzato naturalmente i giornalisti sono ascetici a parte gli scherzi e non è una parolaccia non è una parolaccia non vorrei essere frainteso però Mauro questo weekend come forse cercava di dire pure poco fa prima di essere malamente interrotto hai ragione hai ragione ci sarà il ritorno del battistrada 0,4 mm quello sì ci abbiamo di nuovo la storia ma lì quelli sono i piatti che gli vengono meno bene alla Pirelli non perché non li cucini male ma perché riesce a presentare sempre le cose più semplici come qualche cosa che dietro ci sia un po' sarà la cattiveria sicuramente della stampa eccetera che è efferata nei confronti della Pirelli però come toccano qualcosa ad esempio il discorso della Mercedes che ha provato alle castellette come già bagnato cioè è una cosa facile da spiegare voglio dire abbiamo fatto un bando la Mercedes ha detto sì vengo con la macchina la Ferrari ha detto no bene abbiamo sentito Telecronach dove questo tema diceva beh ma se piovesse la Mercedes è in vantaggio ho capito la Ferrari non c'è andata e voglio dire è chiaro che se stai vicino a te uno tutto vestito di rosso o è un vetro comunista o è Genè però voglio dire e diciamo che ora ci sono più Marc Genè in Ciro purtroppo che i vetro comunisti esattamente sì sì ma bisogna guardare state attenti voi che andate in Ciro per quei posti lì sono pericolosi ma chi i comunisti o Genè non lo so non lo so non lo so non lo so il vetro comunista è pericoloso distinto i Genè sono pericolosi di ritorno diciamo così ma comunque va bene non importa però state attenti perché sono ambienti difficili quelli lì Alberto ecco e occhio perché ci vuole un attimo che il gambero sia un po' passato e lì è diarea sicura Alberto dopo aver la certezza di non poter andare in Pirelli mi sa che non poter andare neanche in Pirelli a me da qualche altra parte si potrà mangiare in Formula 1 voglio dire ma Genè guarda è una persona simpaticissima io lo conosco è molto simpatico l'abbiamo incontrato anche a Goosewood è una persona d'oro veramente però è rosso o è un eczema o non so è qualcosa ha quel problema lì d'altra parte io credo che a proposito di tavole calde o fredde d'altra parte ci mangia casomai è chi se lo mette vicino che fa una scelta di campo ma va bene tanto siamo tutti ferraristi quindi voglio dire non ce ne sarebbe neanche bisogno addirittura ma comunque vabbè lasciamo perdere dai quindi voi partite martedì mattina? no no mercoledì mattina mercoledì mattina si salvo viene a Milano mercoledì e giovedì giovedì si parte sì sì e dove arrivate? marsiglia? no nizza? no no siamo in macchina siamo in macchina ah andate in macchina vabbè da Milano è un percorso piacevole formula passion ci hanno messo a disposizione una macchina meravigliosa che cos'è? non possiamo dire però non possiamo dire ah non si può dire perché poi non puoi dire che siamo prezzolati però ecco l'unico che posso dire è che monta gomme firelli monta gomme firelli veramente ah ne avevamo già discusso bene bene mi è rimasta la curiosità e direi che possiamo anche questo noi da domani direi domani lanciamo quel sondaggio che abbiamo fatto nel discorso sulla riformula la formula 1 parte domani ma un altro bel sondaggio sarebbe interessante quello con che macchina andranno a Castellet Alberto Sayu e Salvo Sardina quello è un altro tema che secondo me potrebbe affascinare diciamo che non è un costruttore presente in formula 1 però rappresenta Le Mans quindi potrebbe potrebbe essere una Toyota una Toyota ad esempio potrebbe essere una Ferrari o una Ferrari Gran Turismo no però la Ferrari in Formula 1 potrebbe essere una Porsche ah scusa si una Porsche probabilmente una Porsche una Ford una Ford Fiesta per esempio una Ford Fiesta ma guarda che Alberto è uno che sa vivere voglio dire sai Salvo te sei chiuso perché vieni vieni da una città dura l'università della strada ma Alberto hai voglia nella bambagia ma viene anche Paola o no? Paola si chiama sì Paola o no? no 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 andiamo solo io e Salvo certi ambienti non sono idonei non sono idonei perché sai in quell'ambiente lì va bene va bene allora Paolo visto che siamo quasi in chiusura però è anche giusto leggere la domanda dei Roby del nostro carico peraltro Roby vedo che ha cambiato anche foto però non riesco a capire che cos'è forse davanti a un'auto vabbè glielo chiederemo glielo chiederemo tra poco comunque lui chiede al dià di tutto quindi al dià di Alonso basta Alonso come è stata questa 24 ore vi è piaciuta la 24 ore Le Mans Alberto Mauro vi è piaciuta ma la 24 ore piace sempre perché la 24 ore è quello che aveva detto prima è l'evento è come andare a Luna Park voglio dire non per niente l'elemento centrale della 24 ore Le Mans è un Luna Park allora mettiamola così quest'anno magari rispetto agli anni scorsi la Triple Crown quindi Monaco India Napoli e 24 ore di Le Mans non sono state tre gare particolarmente avvincenti ecco si è visto di meglio noiosa dell'altra possiamo dire no? io direi che sono state una più noiosa dell'altra vabbè ma non perché ero presente però in Indianapolis onestamente c'è stato il discorso che correndo su strategie diverse c'è stato un po' la scommessa però non è stata una gara entusiasmante no però Indianapolis ha avuto un problema che non era mai successo i 300.000 che erano tutti puntati in tribuna per vedere Alberto Sayu e nessuno guardava la pista esatto i piloti si sono lamentati molto si sono lamentati moltissimo ma perché cosa guardano questi? fosse stato solo io ma lì c'era anche tutta una nutritissima delegazione naturalmente 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 quindi è chiaro che Formula Besson in questo caso praticamente ha distrutto lo spettacolo nel senso che tutti erano intorno a loro quindi voglio dire l'anno prossimo non lo so se ci faranno toffare voglio dire ma comunque beh a parte che comunque anche le mance l'abbiamo nel mirino e quindi arriva anche le mance arriva anche le mance in un modo molto particolare molto interessante che credo che piacerà moltissimo abbiamo ospiti di Alonso l'anno prossimo le mance e chissà o magari facciamo un team o magari facciamo anche un'altra cosa e vediamo 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 se ci riesce un team nel garage 56 visto che quest'anno molti si lamentavano dell'assenza del garage 56 ah va bene ai progetti particolari facciamo un team Formula Passion e andiamo con l'Apecar e andiamo con l'Apecar a turbina magari a turbina così almeno diciamo a posto vabbè eppure io ho l'impressione Alberto che quelle Apecar non sarebbero in grado di fare una 24 ore di Le Mans 24 ore senza rompersi mi sa che senza rompersi almeno l'esperienza che è stata condotta mettiamo così parti fai un'oretta cambio pilota ci metti un'oretta diciamo che magari ecco riesci a fare 12-13 ore alternando un po' la lap la lap ma poi sai quelli lì sono mezzi salvo che non è che riesci a dosare cioè con quelli devi andare sempre al massimo eh certo non puoi risparmiare ma guarda come l'ha presa sul serio e anche tecnicamente proprio eh secondo me secondo me c'è il catering anche alla piaggia sai noi abbiamo fatto abbiamo fatto c'è del bel catering anche alla piaggia guarda direttore guarda ti lancio questa con l'ape con l'ape se c'è la piaggia ora io lo proponiamo e facciamo l'anno prossimo la Parigi-Dakar la Dakar con l'ape beh a parte che a Dakar immagino in questo momento non sia facilissimo no andarci o comunque potresti fare il giro di Dakar più che altro se ci riesci no 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 la Dakar non la Parigi ah la Dakar ah ok la Dakar se vuoi cominciare a prepararti lo vuoi fare esatto cerchiamo degli spawn comincia a lucidare i condotti quelle cose lì esatto magari in versione in versione gelataio direi anche con la musichetta dell'ape con la musichetta vabbè ma non si può sempre scherzare bisogna essere seri nella vita ecco è questo momento della serietà direttore ah no lo temevo lo temevo lo temevo lo temevo ah vabbè ma Salvo tu sei una botte di ferro eh senti come come governa la lingua francese eh ma mademoiselle facile andare in giro così eh facile andare in giro con una classe sai che ma lì è un tiro di schioppo andare in Francia quindi eh sì sì di solito lo respingono però eh però esatto a 20 miglia quando riesce a passare però eh e io gli dico è vomitevole che mi respingiate francesi è vomitevole bravo è vomitevole vabbè però vabbè parlando di Francia sicuramente Coppini faceva parte lì delle italiane con Gigi Rizzi Piro Coppini 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 guarda mio padre mio padre è stato vice direttore Denis Maten eh quindi vedi che eh quindi vedi che non c'è niente da fare con noi noi siamo ovunque noi Coppini siamo ovunque vabbè allora cosa succede a Castelletto no però volevo chiederti Alberto scusami c'è qualcuno che ha preso perché non era tanto difficile fare eh il pronostico del il Totoleman credo che che Coppini abbia indovinato no? Coppini si ritirava e io ho detto che vinceva batto eh vabbè non c'era c'era quindi ha vinto ha vinto il direttore strano strano ha vinto il direttore ok ma infatti ma poi tra un po' si scoprirà sai come quei quegli scandali politici che io e te davano apposta pagati no? delle previsioni assurde per favorire la vittoria di Coppini ma naturale ma certo è scritto nel contratto quello eh scritto nel contratto scritto nel contratto se no non ci mandano mica in Francia eh col fischio eh figurati vabbè forza Totò Coppini Mauro eh vabbè io devo dire Vettel eh Vettel devi anche tu devo no no devo perché perché onestamente sembra che effettivamente la Ferrari quest'anno sia vincente prova ne sia che la Rai ha pensato bene di non dare più la Formula 1 quindi voglio dire questo è un segno importante quando la Rai decide di non dare la Formula 1 è il momento in cui la Formula 1 avrebbe fatto la fortuna della Rai quindi io ritengo da questo segno che eh la che vincerà Vettel e lacrime per Massoni perché Massoni ormai eh viene genericamente eh rimpianto perché vabbè perché forse perché la la monocultura anche in Formula 1 non paga e secondo direi 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 Bottas e terzo Verstappen ah ma quindi Hamilton fuori io vado molto io vado molto vicino al pronostico di Coppini sapete eh beh sei un intenditore perché dico Vettel che credo che è la prima volta che lo pronostico vincitore quest'anno cerco sempre secondo me sì io quasi Vettel Vettel Bottas Vettel Bottas eh Raikkonen è un po' troppo questa però 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 si prende 40 secondi da Vettel però però sì no no d'accordo ma sono anch'io d'accordo di non mettere Hamilton perché lo vedo un po' intrestito Hamilton allora vedo che nei commenti di Youtube fanno un po' tutti quanti gli scongiuri al vostro eh io invece caro Daniel faccio un pronostico che non ti farà fare gli scongiuri perché dico eh Hamilton Bottas Vettel quindi mi mantengo Visto che monteranno le gomme Mercedes no mamma mia che come sei fazio ma pensa ma pensa che roba secondo me è una promozione questo ha mandato un curriculum ma sicuro sicuro è certo l'ha mandato l'ha mandato sicuro sicuro come loro con Genevandini che gli diceva parlo delle gomme una serpe in seno praticamente così è se vi pare e a l'osso e a l'osso cosa partire fa con la Toyota arriverà magari penso si schierasse con la Toyota eccezionale ma via eccezionale ma a l'osso a l'osso vedo male ma comunque dite pure voi Salva ha detto 13 io dico 11 10 va 10 ma non ci credo neanche io però va bene 10 dai di 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 incoraggiamento dai va bene va bene va bene allora buon viaggio e quando tornate ci raccontate tutto anzi no quando tornate ci raccontate tutto da là qualcuno ha provato a capire chi è l'intervistato della foto intervista sì qualcuno ha detto Horner però non possiamo né confermare né smentire né confermare né smentire eh va bene ma siete veramente ermetici ma ecco noi abbiamo detto campione del mondo ma non campione del mondo di formula 1 eh esatto avete depistato va bene abbiamo provato a fare un po' allora Mauro permettimi di ricordare visto che saremo io e Alberto faremo eh penso tutti no penso faremo sicuramente tutti i giorni dei piccoli video eh all'inizio della giornata e alla fine della giornata sulla nostra pagina facebook di formula passion quindi seguiteci insomma certo ma raccontate un po' la vita che si ma lo fate già lo fate già voglio dire perché poi noi diamo per scontato tutto poi in realtà è anche divertente andare a vedere un gran premio da quel punto rivista lì ma molto molto divertente siccome sento sempre la mentele com'è difficile che fatica eccetera poi in realtà insomma andare là a me è capitato di andarci qualche volta e devo dire che non è mica male si si sente in un bel club tutto sommato e la cucina è ottima come abbiamo già detto esatto va bene allora arrivederci a tutti ciao salvo buon viaggio ciao Alberto anche a te naturalmente grazie ci sentiamo al vostro ritorno e vi seguiamo su naturalmente su Formula Pesco va bene saluti a tutti arrivederci buonanotte ciao ciao